La funzione fattoriale ti restituisce il fattoriale di un numero. Il fattoriale è la moltiplicazione di tutti i numeri che vanno da 1 fino a quel numero. Per esempio, se seleziono il numero 5 e voglio calcolare il fattoriale, la formula mi restituirà la moltiplicazione tra 5, 4, 3, 2 e 1. Seleziono la funzione fattoriale e inserisco il riferimento di cella dove è contenuto il numero in cui voglio calcolare il fattoriale. Il risultato è 120 perché la moltiplicazione di questi numeri mi fa appunto 120.